Justin Believer, nooo, uh la 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 la, sono un Believer, ma che davvero? Secondo episodio di Rocket Stars, oh wow, oh wow, oh wow, spero che l'uomo di metallo venga ad aiutare Dobbiamo sparare, sparare all'impazzata fino a quando nulla ci separerà dalla morte No, la prima volta, la prima partita che ho fatto, il primo episodio, sono morto in un modo atrocemente brutto Cos'è? Ah il lanciagatti, bellissimo, questo qua ogni tanto sparerà un gatto Così, alla cazzo, farà un gatto, oh bello sto potere, lo amo, ecco, ah questo è il lanciagatti, quello di prima, che cazzo era E la madonna, ho preso tutti i poteri, e vabbè ma quanti poteri sto prendendo? Cioè, tutti i poteri in una volta, comunque guardate il lanciagatti che fa, aspetta ora ve lo faccio vedere, guardate Boh, 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 bellissimo, e questo è buono con il boss, non il potere di merda di prima Ma comunque, secondo me, boh, sarà molto più facile uccidere i boss E vabbè, sparare le pallette di, cioè, sono facilissimi evitare queste cose Prende se non vado in confusione anche con i miei La cosa più brutta di queste, degli shooter È che, vedete, cioè, vado in, non è difficile evitarli alcuni Ma vado in confusione perché stanno anche i missili che lancio io E, e va in confusione E la madonna, cos'è? Vabbè, no, va bene, dai Just in Believer Nooo Ullalalalalala, sono un Believer Ma che è davvero? Non un Directioner come te Ma dai, vada, Belli Io lo amo sempre di più sto gioco No, voglio, i giochi di The Noodle Cake Noodle Cake, non so come si dice Sono Belli, uno più bello dell'altro, voglio Uno più bello dell'altro Cos'è? Una ciambella Oh, è una tragedia Cosa faccio con la ciambella? Non si sa Mangio una ciambella Ah, forse sono tipo bonus, no, bonus, come si dice Tipo punti Ah, no, è finito Ah, no, il boss sta a livello dopo Ok, vabbè Vieni con me, cuoricino No, cuoricino Mi potrai servire No, di nuovo questi Vabbè, sono scarsissimi, tac Eh, ho detto che sto scarsissimi Intanto prima ho perso con questi Sono andato io a sbatterci contro Come un coglione Mamma mia, che coglione Ho ucciso altre 100 persone Ok, dai, dai Dai che sti robottini C'hanno tipo la faccia Di quello là che prima cantava negli LMFO Cioè, cantava Il robot negli LMFO Che faceva il video Non so come si dice LMFO O è il MIF Ma non so come cazzo si dice Vabbè, comunque quelli Penso che avete capito Vuoi che fanno Ok, scusate Forse è questa Potevo benissimamente risparmiarmela Ma perché dice Ma è tutto tuo O tu prissena No, è tutto il mio Eccolo qua Vai Bo, 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 bo Oh, 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 oh Qualte palle tira però Qualte palle tira Oh, oh, dove vai Oh Vabbè, più o meno La direzione è quella Delle palle, va Più o meno Si riescono ad evitare Eh, vado in confusione Però così Non sto capendo più niente No Non voglio perdere nemmeno una vita Vai, 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 vai Oh E vinciamo Mi ha dato qualcosa Non mi ha dato niente Sei un barbone poveraccio di merda Ma, amore Ti stupro Bastardo No, ti stupro No, perché sei masco E sei un roba lì Sporocchio su roba Ma che cazzo Io ti faccio un mazzo così Vai Vai Voglio il mazzo così Che si può Si Oh Oh No, no, bastardo Mamma mia Figlio di troia Vedete perché li odio Fuori No, wow Come mi ha fatto Ancora più probabilità Di colpi critici Ah, quelli là Mi fanno aumentare i colpi critici Ottimo Ottimo Voi, critico Quando c'è scritto sopra Ok, ok, ottimo No, mi ha fatto perdere l'armatura Quel bastardo di merda Con l'ultimo laser Io li odio i laser Li odio i laser Riesco a evitare tranquillamente Se colpi mai i laser Proprio Perché non riesco a capire Quando si attivano Quando fa Mamma mia Ok, vengono dalle nemici No, non vengono dalla pure Ma è andato di là Il colpo Vabbè Vabbè E infatti E lo sapevo Oh, lo sapevo No, no Vai che ce la faccio Dai che non mi ha colpito Almeno una palla E non mi dica Mi sono buttato Le sacce più grandi Della mia vita Può darsi Può darsi Può darsi Vai Vai Ok 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 Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace E un condividere il video E fatemi sapere se la serie vi piace Il colpo va così a capocchia E niente Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao